La prima regionale ad Alghero di Doppio Sogno, sono tra i protagonisti Caterina Murino e Giorgio Lupano, è una commedia che riprende il tema della seduzione e della gelosia da un testo molto famoso di Schnitzer e soprattutto un film interpretato da Tom Cruise e Nicole Kidman. Qual è il più geloso tra i due? In realtà sì, non è questo ora il tema della commedia, che è invece molto presente in Schnitzler e anche in Kubrick. Qui la gelosia per quanto riguarda i tradimenti sognati, immaginati, desiderati, si trasforma in realtà poi in un senso di colpa. In questa coppia, appunto, interpretata da Caterina e da me, quelli che sono i tradimenti o quello che è il peccato originale e questa coppia si porta dietro, si trasforma in un senso di colpa che andrà espiato in qualche modo. Questa è la versione di Giancarlo Marinelli che ha adattato il testo appunto traendolo e tradendo anche un po' il testo di Schnitzler appunto. Come è andata la prima a Campobasso? È andata bene, è andata bene, in realtà sai le prime vanno sempre abbastanza bene perché insomma c'è quella sorta di attesa da parte del pubblico, la nostra adrenalina, il vero banco di prova è questa settimana in Sardegna che apriamo stasera qua al Teatro Civico di Alghero dove siamo molto contenti di essere soprattutto Caterina perché lei è sarda ed è orgogliosamente sarda. E lei infatti chiediamo Caterina che accoglienza ti aspetti insomma dal tuo popolo? Beh prima ancora di vederlo so che è tutto pieno quindi più di questo credo che non potrei chiedere, veramente grazie a tutti coloro che parteciperanno a questo spettacolo che come io dico è molto interattivo perché è uno spettacolo in cui il pubblico non potrà né addormentarsi e sarà sicuramente teso come una corda di violino perché il regista ha scritto veramente un testo straordinario per tutti i rimandi, ricchissimo di rimandi, ricchissimo nella psiche umana e sul tradimento e sul dolore della famiglia, della perdita di qualcuno. Per cui è veramente importante che tutti voi, tutto il pubblico stia soprattutto attenti ai primi 15 minuti perché daremo dei codici e quello che abbiamo scoperto a Campobasso è che c'è il pubblico stesso che suggeriva delle parole d'ordine che noi diamo durante lo spettacolo. Quindi è molto interessante che veramente ci sia questa azione, veramente questo coinvolgimento così partecipato del pubblico. Ma tra gli artisti sardi con chi vorresti lavorare? Noi ti immaginiamo, non so, vestita da Marras, diretta da Mereu o forse accompagnata dalle musiche di Fresu. Potrà esserci un triplo sogno magari? Speriamo, speriamo. Tutti quanti insieme potremmo fare un bellissimo film. Io ho sempre nel cuore la mia Eleonora d'Arborea e fino a quando la faccia non mi cadrà a pezzi io mi batterò per cercare di fare questo film di questa eroina, di questa unica regina italiana, soprattutto la nostra regina, quella che ha fatto talmente tanto per la nostra indipendenza e quindi mi batterò come lei per poterlo fare, portare questo personaggio in tutti gli schermi. Giorgio, è solo l'inizio, Alghero, dove proseguirà il turno. Siamo un network regionale quindi possiamo anche promuoverlo per i prossimi giorni. Io temevo questa domanda perché non so dove andiamo domani, siamo a... Aiuto io, Tempio, Nuoro, Santa Teresa, Arzachena e San Gavino dove c'è mamma, dove c'è tutta la mia famiglia, San Gavino assolutamente. E quindi io spero che viniate ancora di più di quelli che ci sono anche perché so che i teatri non sono grandissimi quindi c'è un po' la spinta anche a prendere i biglietti quindi spero veramente di poter portare il mio lavoro che non tutti conoscono in giro per la Sardegna ed è la prima volta che faccio un tour sardo, tu l'hai già fatto. Fatti perdonare. L'anno scorso con Elephant Man eravamo qua e anche a Sassar in altri posti. No, vorrei dire che qui la stagione quest'anno, non sai come si chiama Caterina, l'hai visto? Si chiama Giù la maschera che è una delle nostre parole d'ordine dello spettacolo è una cosa che viene ripetuta spesso perché i nostri personaggi sono un po' pirandellianamente, sono mascherati. E anche nei film di Kubrick, certo qua hanno delle maschere sulle maschere, insomma è veramente un viaggio nella psico-umana come ha detto Caterina, nella mente, nelle paure, nella mia mente, bah se fosse un viaggio nella mia mente sarebbe un viaggio molto corto, guarda, inizia e finisce lì. Tiene abbastanza, tiene almeno due ore, non ti preoccupare. Ma lo spettacolo è iniziato. Tutti quanti, dalla tua testolina, malata. Abbastanza malata, ma forse quella di Marinelli, quella malata che ha scritto il testo. È uno spettacolo da vedere. L'abbiamo capito.